Salve ragazzuoli, come va? Spero bene E io sono qui, Kingslave Corporation Per andare avanti su questa bellissima serie Vi ricordo di seguirmi su Instagram Su Youtube e su Twitch Come Kingslave Corporation, signore e signori Grazie per avermi sentito Per avermi ascoltato E continuiamo la serie L'ultima volta andatelo a vedere su YouTube Non mi rompere i coglioni Guarda questo Ma allora ragazzo, mangiare la cioccolata Sono la più buona che c'è Vai Che è un salve Ti pareva Credevi fosse così facile No Non puoi sperare E ora? Fratello, una trappola per i venti di Edo Ma dove saranno i bei beni? I venti di cosa? Non te l'abbiamo detto? Quando eri malato ci siamo procurati la cura a E-Line Davvero? Un'esperienza Ma tu padre ha incarato un nuovo truppetto Con l'aiuto di voi E' anche pronto E riparleremo A un paveremo Ir Non è possibile, ragazzi? Ah, molto carino. Scusate, ragazzi, che sto prendendo? Sto prendendo questo cioccolato che, mamma mia, è una bontà unica. Non pensate male. Ah, qui? Dovrei vedere. Da qualche parte. No? Ok. Zitta, adesso. Bravo. Guarda quello! Guarda quello! Guarda quello! Grazie a tutti. Oh, oh. Ok, trova, trova. Basta la distrazione. Non dimenticare perché siamo in qui. Va bene. Viene da una grande terra deserta, molto lontana da qui. Egitto. Ci vivono gli dèi. Caspita sì, moltissimi dèi. Buoni occhiettivi. Io temo che non sia così semplice. Scusate raga, voglio fare il volo? Vado a dargli da foto. Ok, sto pezzo voglio farlo che fa. Provo io metto più fogo. Eccolo, che si vede. Mamma mia, questo è bello. Nascondi. Salva. Ok. Mamma mia raga, bellissimo. Bellissimo. Alla, dai. Eccola. Questa è la prima. Alla, ciao. Andiamo. Alla, ciao. Abbiamo finito. Ma non è più troppo qua. C'è troppo qua. Ma cosa hai visto nella sala? Sembri le bevissime. È stato solo un giro. Non è più di essere. Wow, sembrano qua fare le scuole. Beh, beh. Ma non è più di essere. Occhio! Ok, pronta, Treyus. Senti... Voglio solo la vendetta. Ok? Non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere un dente. Ok, qui c'è. Ok, qui c'è. Pronto, eh? Adesso è pronto, eh? Corri! Corri! C'errerebbe essere un po' 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 po'? Bello. Tutto a pirà completo, ok? Allora, raga. Alcuni si lamentano che la posce del gioco c'è l'epo. Ma raga, io non posso farci niente. Eh. Allora, raga. L'enigma. L'enigma. Allora. Il centro li fa spostare. Ok? Quindi il centro. Centro. Destra. Allora. Il centro. Li fa spostare. Poi destra. Aspetta, com'era? Scusate, cerco su internet perché... Mi sa che era cento sinistra, cento destra, sinistra, cento destra. E' tutta roba politica, eh. Infatti c'è... Enigma. God of War. No. God of War. No, le stagioni. Enigma. Sole e luna. Ok. Ok. Sinistra, cento... Ok. Centro, sinistra, cento destra, sinistra, cento destra. Ok. Guardate. Allora, sarà un casino dirvelo. Allora. Il centro. Il centro. Cliccandolo. Sposta tutto questo. Quindi la luna. Dove aver cliccato a sinistra va sotto. Poi di nuovo centro. Che sposta tutto a destra. Che questo va di qua. E il sole va di qua. E la destra va giù. Poi, dopodiché, sinistra alzo la luna. Il centro faccio spostare tutto di qua. E la destra alzo il sole. Così almeno la luna sta qua. Il mezzo sta qua. E il sole sta qua. Vabbè, direi che è facile, no? Non ti piace davvero? Essere un dito. L'avventura è in qualche luogo fantastico. Magari la mamma voleva che ci diventissi un po'. Tutto ciò che abbiamo visto è fa. Forse è un suo dono. Perciò che abbiamo visto. Perciò che abbiamo visto. Perciò che abbiamo visto. Perciò che abbiamo visto. Allora... Allora... Ragazzi, cosa dici? E questa? La mente più veloce del vento Forse non si tratta di veloce Dove altro potrebbero andare i venti? Ah, ingegnoso Per uno così amato, Tyr è molto paranoico Sì, ne aveva motivo a causa di obiettivo Allora, pronti, regà, eh? E qui c'è un inghippo Cento sinistra, cento destra, sinistra, cento destra Vai La runa sta scendendo Che succede? Trattola Padre Ragazzo, battami via Io sto bene, come ti liberiamo? Tira le catene sul muro Che cosa fai? Atreus, calma, puoi farcela Bregate, non so ancora se posso affogare Ok, anche Ergina Rigorata Scolto è durata, inseguiti Per scatenare i durata Devono di chi, ma non sono in loro Bravo La luna va vasto Il sole a testa Ai venti guardanti Quale leva? Al centro A sinistra Al centro Vanno in loro Sotto destra Invitare al centro Quello a destra Sinistra Vai, 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 vai Al centro, su A destra Va, Gordi Non posso affogare Buono sapiensi Non fermiamo Ehi, fa una grande catena Fate, se ci soffra Ragazzo, ferma quella catena Non lo so So cosa fai Non c'è altro modo Dovremo funzionare Dovremo funzionare Il pugnale Lo so Ma ti ha salvato Sei stato astuto La luna è libera Ce l'abbiamo fatta Vediamo cosa tira Il servo per me Recupera La luna Nera Ma no Non c'è più Cosa faccio Ci siamo Ragazzo Tieni Il giorno in cui nascessi Feci due pugnale Fondendo metalta della mia E di questa terra Uno per me E quando tu fossi sotto Uno per te Quel giorno è arrivato E sono un uomo Come No Noi non siamo uomini Siamo più che uomini La responsabilità è molto più grande E tu dovrai essere migliore di me Hai cari Dili, io sarò migliore. Il potere di questa, di qualsiasi amma, proviene da me. Sono settemperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non deve dimenticarla mai. Bene, Aurora. Vieni, vieni. Niente. Aspettate. La Aurora, l'hai vista? Sì. Ne sei cercato? Sì, sì. Vieni. Vieni. Mira la faccia. Buongiorno. Ma part face. L private ma. Stasciando! Disponibile. Era grossa? Ma un'inizia per noi dai. Niente di special challenge. Unisero troll. E vai. Sono sotto sotto. Ma che parte a te? Oh, a pension. Madonna. E io credo di aver completato tutto nella camera di tiro, no? Perché c'è un altro forziere legge... Ah, uno skin do proveniente dalle mie terre. In passato ne avevo uno anch'io. Prendilo pure, ragazzo. Prendilo, ragazzo. Potrebbe servirci per spammare il burro sul pane. Ecco perché non piace a nessuno. Ecco perché non piace a nessuno. Prendilo. 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 Di avanti. Prendilo. No.... allora ragazzi prima che arrivo un attimo due secondi arrivo grazie a tutti 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti